il purgatorio è un luogo ed una condizione che ogni anima vive quando ha ancora bisogno di espiare e riparare i peccati che ha commesso durante la sua vita prima che possa raggiungere Gesù in paradiso. Oggi si insegna molto poco sul purgatorio e l'ignoranza che ne consegue può portare molte persone ad essere curiose e in quanto sole e prive di una guida spirituale a scivolare molto facilmente in pratiche occulte. Di solito si dice che il purgatorio è solo una condizione. Ciò è vero solo a metà perché è decisamente anche un luogo. È anche un tempo di attesa in cui le anime anelano a Dio e questo desiderio inappagato è la loro sofferenza maggiore. Tutte le anime a qualsiasi livello si trovino fanno questa esperienza. Grazie.